Si stava meglio quando si stava peggio, se lo chiede tra le righe Antonio Atella, giornalista di Venafro nel suo ultimo libro. Oggi, anche se si sta attraversando un periodo di forte crisi, il benessere è diffuso, ci si concede lussi e comodità fino a ieri impensabili. Di contro però si sono persi anche tanti valori e certezze, come ad esempio quando in tanti paesi del Molise ci si poteva permettere di lasciare aperta la porta di casa. Nessuno si sarebbe azzardato a entrare a rubare, anche perché a vegliare c'era anche il vicino. Porta aperte vuole essere una memoria storica del passato, per ricordare l'attrazione, le attrattive del passato, senza nulla togliere ovviamente al presente. Un porte aperte per ricordare quando a Venafro, nei paesi di tutto il Molise, si viveva con la porta di casa non chiusa, ma socchiusa, appoggiata, perché i rapporti tra le persone erano diversi. C'era maggiore comunione, c'era maggiore solidarietà e nel vicinato, nel quartiere, nel riore, si viveva in perfetta simbiosi con tutti gli altri. È un viaggio, un viaggio ideale nel passato, per non perderne appunto la ricchezza, per non perderne la memoria e per trasmetterlo ai giovani, trasmettere soprattutto alle nuove generazioni le tante positività del passato. Oggi viviamo tempi indubbiamente positivi sotto tanti aspetti, con tantissime realtà, ma il passato era ricco di cose altrettanto preziose e le ho raccontate. Grazie. Grazie. Grazie.